Buongiorno a tutti, il tavolo dei relatori è pieno, credo che tutti quanti voi preferiste continuare a sentire questa magnifica musica barocca, ma purtroppo il compito è quello che ci è stato affidato di tormentarvi con le nostre modeste, almeno le mie modeste opinioni in materia di antitrust. Allora ho già pregato i relatori, i relatori mi hanno dato il loro consenso di limitare ciascuno a non più di 20 minuti, così da poter fare l'intervallo per la colazione a l'una e mezzo, come mi è stato detto dagli organizzatori, che io ringrazio in cui ancora una volta e di nuovo per avermi invitato, forse non sapevano che io non sono abbastanza pratico a moderare, ma più a fare delle relazioni a latere, cercherò di fare il mio meglio, ma la colpa comunque è di Benacchio e di Carpagnano avermi chiamato al centro di questo tavolo. Un'introduzione breve breve breve, credo prendo cinque minuti. Considero l'oggetto della quarta edizione, quarto convegno biennale sull'applicazione delle regole di concorrenza d'Italia e l'Unione Europea, sostanzialmente la continuazione e l'aggiornamento rispetto a quello che ci siamo detti in questa stessa sede esattamente due anni fa. Nel senso della continuazione e dell'aggiornamento io farò queste brevissime osservazioni. Avevo parlato due anni fa del problema, il tema diciamo così generale di questa seconda parte della mattinata è il private enforcement. In relazione al private enforcement mi ero permesso di trattare il problema del nesso di causalità che riguarda e che si pone quando il danneggiato da una violazione di una norma antitrust chiede il risarcimento dei danni. Ecco, dopo due anni devo fare una constatazione che è la seguente. La Cassazione in tre tappe ha decretato la morte del nesso di causalità, almeno per quanto concerne le azioni risarcitorie da violazione di norma antitrust. La prima tappa l'abbiamo avuto con la sentenza 2305 del 2 febbraio 2007, nella quale la Cassazione aveva affermato l'esistenza di una prova privilegiata o presunzione di cui poteva godere il coetto danneggiato una volta che ci fosse stata la condanna dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Di fronte però a questa prova privilegiata o presunzione la Cassazione aveva detto, il giudice però non può omettere di valutare tutti, vi prego di sottolineare la parola, tutti gli elementi di prova offerti dall'assicuratore per contrastare questa presunzione, il resto ve lo risparmio. Abbiamo poi una seconda tappa, la seconda tappa che inizia più o meno a metà del 2011, qualche anno dopo, perché la Cassazione comincia a restringere quel tutti dicendo che la compagnia deve addurre, non basta che la compagnia di assicurazione o comunque il convenuto, non basta che riproponga delle questioni che sono state già esaminate davanti all'autorità competente, ma deve addurre prove nuove e diverse. Questo lo troviamo per esempio, non è l'unica, nella sentenza 11.610, 26 maggio 2011, allianze contro Tagliaferro, Presidente Petti, relatrice, la professoressa Lanzillo, dice che deve dare delle prove nuove e diverse da quelle che sono state oggetto e esaminate, accettate o non accettate, dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. E dice ancora la relatrice, professoressa Lanzillo, qui deve fornire, cito tra virgolette, precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell'impresa interessata, A, B, C, di quella impresa e del singolo assicurato idonee a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione al cartello all'intesa e all'intesa illegittima. Dunque qui c'è un'ulteriore restrizione della possibilità per il convenuto di addurre le prove contrarie atte eventualmente a, diciamo così, a contrastare la famosa presunzione. Se non che la mia osservazione prima sul punto è molto semplice, è sempre stato pacifico ed è stato confermato dalle relazioni che abbiamo sentito prima stamattina che nell'ordinamento italiano una decisione di un'autorità amministrativa, sia essa A, G, C, M o altre, non ha un valore vincolante per l'autorità giudiziaria ordinaria. Tant'è vero che la Cassazione aveva detto presunzione seppur rafforzata, seppur così. Ora, il restringere questo tipo di prove avrebbe condotto a ritenere invece che non più si tratta della libertà di addurre ogni prova, scusate, ogni elemento di prova, ma con questa limitazione. Allora noi sappiamo che si risicute molto a livello europeo della vincolatività o meno della decisione dell'autorità competente in materia di concorrenza. Ma faccio solo due brevissime osservazioni su questo punto. La prima osservazione è che in quegli ordinamenti giuridici tipo la Germania con l'ultima riforma, l'ultima novella del GVB, per arrivare a un risultato del genere c'è stato il legislatore che ha emanato la norma inserendola nel GVB dicendo appunto che i giudici ordinari sono tenuti, sono obbligati ad osservare quello che ho detto. E d'altra parte abbiamo sentito stamattina che i giudici nazionali sono tenuti a rispettare e non discostarsi da quello che dice la Commissione. Ma qui c'è un piccolo, non ho il tempo di fermarmi di più e non voglio rubare tempo prezioso, c'è una piccola differenza con l'Italia, che mentre a livello comunitario le decisioni della Commissione sono sottoposte ad una valutazione in sede di impugnazione non solo di legittimità ma addirittura la valutazione che prende in esame e riprende in esame tutto il merito, questo il Tribunale lo fa, in diritto italiano, noi sappiamo molto bene, nel diritto amministrativo che c'è il famoso Consiglio di Stato il controllo debole, la distinzione fra il controllo debole. Il che vuol dire che il controllo giurisdizionale che in Italia si può avere contro una decisione dell'autorità garante non è così pieno o totale come quello che avviene nella comunità europea. Terza tappa, la terza tappa l'abbiamo con l'ordinanza della Cassazione 5.327 del 4 marzo Presidente Finocchiaro, relatore, dottor Di Stefano, la Cassazione in questa ordinanza cosa fa? Fa un passo in avanti e mi elenca, mi fa un elenco di quelli che sono le prove che la controparte, che il convenuto in un'azione risarcitoria deve potere. E' vero che dice a titolo di esempio, non dice esaustive, però l'indice è molto pericoloso. Ve l'elenco, ovviamente questo che dico e questo elenco che faccio riguarda i casi delle assicurazioni, ma potrebbe un domani essere riferito anche a un cartello bancario o ad altri settori economici. Questo elenco, ne ho presi cinque di queste affermazioni dell'ordinanza, dice che una delle prove che potrebbe dare la compagnia è che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa, il livello del premio è stato determinato in altro modo. Secondo, la compagnia ebbe di scorsarsi dal trend degli aumenti accertato dalla GCM e comune alle altre, cioè la compagnia si è comportata in modo, come devo dire, esterna o fuori dal mercato, in modo assolutamente autonomo. Terzo, la compagnia versava in peculiari difficoltà economiche che le hanno imposto determinate scelte di prezzo per le difficoltà economiche. Quarto, il contratto copriva particolari rischi che normalmente non sono inclusi nella polizza, cioè rischi aggiuntivi, coperture aggiuntive. Quinto, l'assicurato ha tenuto un comportamento caratterizzato da una abnorme sinistrosità. Finisco subito perché il tempo mio è passato per dire che molte di queste prove derivano da fatti generali. L'aumento dei costi, il fatto che la Commissione aveva chiesto in quel momento a tutta la compagnia, al settore securativo italiano, di aumentare le riserve e l'aveva chiesto due volte perché le nostre riserve delle compagnie italiane non erano sufficienti secondo i parametri comunitari. Questo aumenta i costi e naturalmente aumenta l'Ega. L'altra cosa, il bilancio. Ma dal bilancio, l'avevo detto in un'altra sentenza della Cassazione, non questa che sto citando, ma dal bilancio non risulta quello che l'impresa vuole dimostrare a sua difesa per contrastare una presunzione, eccetera, eccetera. Finisco. Credo che queste tre tappe possano significare, è un dubbio, ma è un dubbio forte che io ho, una restrizione che non reputo conforme alle regole generali dell'ordenamento italiano in materia di prove, che rende quasi impossibile la prova contraria. Allora diciamo che la presunzione è iuris e deiure, non ne parliamo più, responsabilità oggettiva. Buonanotte, senatori. Ho preso troppo tempo, vi ringrazio dell'attenzione. Il primo chi è? Il primo è l'avvocato Raffaelli. Ti ringrazio e ti do la parola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e un grazie agli organizzatori per l'invito e complimenti convinti agli organizzatori per la qualità del convegno. Il tema che mi è stato assegnato è quello del rapporto tra Plavic e Private Enforcement. Io non so bene cos'altro c'è da dire e quindi mi trovo in imbarazzo. Molto è già stato detto, è stato detto da relatori ben più qualificati di me. Adesso ci si è messo anche il Presidente, per cui direi che veramente io rispetterò i tempi, credo, che mi sono stati assegnati. Non avrò bisogno di appellarmi alla clemenza del Professor Frignani, col quale però ho anche dei crediti, visti i suoi trascorsi trivigiani. L'unica cosa che penso di poter sottolineare è che troverete forse nella mia brevissima relazione qualche elemento di ereticità. Questo fatto è dovuto perché in passato mi sono sempre trovato a parlare di queste cose nel deserto dei tartari, per cui le mie personali convinzioni si sono radicate sempre di più in me e così la mia relazione a qualcuno probabilmente la troverà decisamente eretica. Detto questo, semmai avrò il tempo di fare quella relazione scritta che il Professor Campagnano ci aveva suggerito, io credo che i contributi che sono stati dati quest'oggi saranno molto utili per fare una relazione che tenga conto di diversi punti di vista. Allora, le mie brevi considerazioni oggi riguarderanno l'accesso dei terzi alle informazioni e ai documenti volontariamente forniti dai linens applicants alle autorità che tutelano la concorrenza, il rapporto tra le decisioni con impegni e il private enforcement, il valore delle decisioni dell'autorità antitrust nei giudizi per esarcimento del danno e il sistema di applicazione cosiddetta decentrata del diritto antitrust europeo. Allora, il primo problema è quindi quello di vedere se le dichiarazioni confessorie dell'ignancy applicant e la legata documentazione meritano una tutela particolare. Nel rispondere a questa domanda bisogna tenere conto, da un lato, della necessità di preservare l'attrattività dei programmi di clemenza e dall'altro lato del diritto delle vittime della violazione antitrust di ottenere il risarcimento del danno in sede civile. E' un caso emblematico di una chiara tensione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato. L'approccio tradizionale è quello di negare l'accesso alle dichiarazioni confessorie rese dai linens applicants. A livello europeo la cosa è consolidata da parte della Commissione, anche se la Commissione nella linea MC Notice prevede espressamente che la concessione dell'immunità non sottrae l'impresa alle conseguenze della violazione sul piano del diritto civile. In Italia l'autorità garante si è allineata a tale posizione nel suo programma di clemenza, ma oggi abbiamo sentito che probabilmente dal consigliere Chieppa ci sono delle novità. Per quanto riguarda l'accesso ai documenti volontariamente allegati alle dichiarazioni confessorie, a livello europeo si applica il regolamento generale sulla trasparenza, che viene però applicato in maniera restrittiva dalla Commissione. Mentre a livello italiano si era esclusa espressamente la possibilità di accesso da parte di terzi ai documenti volontariamente prodotti dai linens applicants. In questa situazione è intervenuto il caso Fleider, menzionato anche questa mattina, con il quale la Corte di Giustizia ha cercato di risolvere il conflitto tra interesse pubblico e privato, affermando che il diritto dell'Unione Europea non osta a che un soggetto danneggiato ottenga l'accesso ai documenti relativi ad un procedimento di clemenza riguardante l'autore dell'infrazione. E che il bilanciamento tra l'interesse dell'ignancy applicant a mantenere riservati i documenti relativi a un procedimento di clemenza e l'interesse del terzo a risercimento del danno che a tali documenti chieda l'accesso deve essere effettuato dal giudice nazionale caso per caso in base alle norme dell'ordinamento interno. Ebbene, tutto questo non sembra aver risolto il problema perché vi permangono incertezze nel sistema. Vi sono quelle pronunce contrastanti delle autorità giurisdizionali nazionali che pure già sono state menzionate questa mattina e quindi il Tribunale di Bonn che proprio nel caso Fleider ha negato l'accesso ai documenti dell'ignancy applicant mentre invece il giudice Peter Roth della English High Court nel caso National Grid dopo aver sollecitato l'intervento della Commissione come amico scurie ha disposto una disclosure limitata a favore di National Grid dopo aver operato un balancing test. E a livello invece europeo vi sono problematiche di applicazione del regolamento sulla trasparenza perché per esempio due casi emblematici, il caso CDC in questo caso si verteva solamente sulla possibilità di accesso all'indice dei documenti e nel caso ENBWU si trattava invece dell'accesso al fascicolo in tutti e due casi la Commissione ha rifiutato l'accesso ma il Tribunale in tutti e due casi ha ritenuto di annullare la decisione di rifiuto della Commissione facendo anche delle considerazioni sulla valenza delle azioni per esercimento dei danni per l'enforcement antitrust in generale. C'è poi un interessante caso pendente davanti alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale che è il caso Donao Chemie in questo caso dove ci sono state le conclusioni dell'Avvocato Generale non più tardi del 7 febbraio ultimo scorso nel quale l'Avvocato Generale ritiene che siano compatibili con la giurisprudenza Fleiderer una norma nazionale che conferisca protezione assoluta ai partecipanti di un programma di clemenza. Allora viene spontaneo domandarsi ma il caso Fleiderer è stata un'occasione mancata diciamo che forse la Corte di Giustizia poteva intervenire in modo più incisivo allineandosi maggiormente alle conclusioni dell'Avvocato Generale non limitandosi al balancing test per i giudici nazionali ma estendendolo anche alle autorità nazionali e soprattutto riprendendo la distinzione tra trattamento delle dichiarazioni confessorie dell'ignancy applicant e documentazione allegata a queste. In effetti poi i principi stabiliti nel caso Fleiderer si insendiscono con difficoltà nel nostro ordinamento dove mi sembra che l'unico giudice che potrebbe operare i balancing testi a quello amministrativo il tardellazio in particolare che è orientato negativamente sulla possibilità di accesso al fascicolo da parte dei terzi. Così arriviamo al secondo argomento che è quello degli impegni e rapporti con le azioni di risarcimento del danno. Di nuovo si ritrova tensione tra le decisioni con impegni e le azioni di risarcimento del danno. Il caso Sbelli si è sviluppato ancora una volta davanti al tardellazio nel caso Conto TV contro autorità e nei confronti di Sky Italia dove la sentenza del tardellazio ha annullato il provvedimento di accettazione degli impegni proposti da Sky Italia per rimediare a preoccupazioni concorrenziali espresse dalla autorità. Secondo il Tar, gli impegni sarebbero inidonei a far venire in meno gli eventuali effetti pregiudizievoli già prodotti e questa che è la cosa a mio avviso più eclatante vi sarebbe stata una violazione dell'interesse di Conto TV ad ottenere l'accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità in considerazione del rilievo probatorio che detto accertamento assumerebbe nel contenzioso civile. Diciamo che queste affermazioni del Tar sollevano tutta una serie di problematiche. A mio avviso, mi pare di aver capito che i relatori che mi hanno preceduto non sono tutti d'accordo su questa impostazione ma a mio avviso questo produce innanzitutto una limitazione eccessiva del ricorso agli impegni che non sarebbero più ammessi per condotte che sono ancora in atto ma che abbiano meglio tempo e prodotti effetti dannosi irreversibili quando invece questi impegni, se concessi, sarebbero in grado di offrire una soluzione efficace per il futuro a vantaggio dell'ambiente concorrenziale. Poi mi sembra che ci sia una contrarietà ai principi comunitari secondo i quali l'accettazione di impegni non pregiudica il diritto al risarcimento del danno e soprattutto, a mio avviso, c'è una pericolosa confusione sulla ontologica diversità degli interessi posti alla base del public e del private enforcement. L'ultima considerazione è quella del ridimensionamento di dimensioni notevoli che viene fatto del valore probatorio della decisione di accettazione degli impegni nelle azioni risarcitorie follow-on. perché forse non si tiene conto che nelle azioni follow-on che seguono decisioni con impegni l'attore può contare sul provvedimento di apertura dell'istruttoria sui commenti raccolti con il market test sul provvedimento di accettazione degli impegni e di chiusura dell'istruttoria senza arrivare alla non condivisibile affermazione del Consiglio di Stato che nel caso Mastercard arriva ad attribuire valore confessorio alle decisioni con impegni. Ecco che allora io credo che come considerazione conclusiva su quest'ultimo punto io credo che si debba affermare con risolutezza che per promuovere il private enforcement non si può mettere il public enforcement al suo servizio. Il principio enunciato dal TAR rischia di mettere a repentaglio l'efficacia stessa dell'istituto degli impegni istituto che noi diciamo legali da parte dell'impresa vediamo molto bene ma che mi sembrava che anche le autorità che tutelano l'antitrust vedessero bene sia l'autorità garante sia soprattutto la commissione e se guardiamo al numero di istruttorie che sono state chiuse anche recentemente con impegni vediamo che effettivamente la rilevanza è sempre grande e vediamo poi a cosa è successo recentemente nel caso Microsoft. Quindi per ritornare al caso Conto TV c'è da sperare che ormai la prossima sentenza del Consiglio di Stato rimetta ancora una volta le cose a posto. Le decisioni con impegni a nostro avviso sono nell'interesse delle imprese che evitano accertamento e sanzione dei consumatori che beneficiano di un immediato ripristino di situazioni concorrenziali ma anche delle autorità antitrust che risparmiano tempo e risorse e come riconosciuto dal Consiglio di Stato con le decisioni sugli impegni esprimono comunque un potere autoritativo del medesimo segno di quello esercitato nel caso di esercizio del potere sanzionatorio finale. Le ultime considerazioni di questo mio breve intervento riguardano poi l'argomento già trattato anche dal nostro Presidente della valenza dei provvedimenti delle autorità che tutelano la concorrenza. In Italia, come già stato detto, le decisioni dell'autorità hanno valore di prova privilegiata in merito alla sussistenza dell'infrazione salvo prova contraria ma interpretata in maniera molto restrittiva come ha ricordato il Presidente Frignani quello che però preme sottolineare che non vi è pregiudizialità tra l'azione amministrativa e quella risarcitoria intentata in sede civile mentre invece a livello europeo la situazione è ben diversa. L'articolo 16.1 del Regolamento 1.2003 come sappiamo e come è stato detto attribuisce valore vincolante nei confronti delle giurisdizioni di tutti gli Stati membri alle decisioni già adottate o solo anche contemplate dalla Commissione prevede l'eventuale sospensione dei procedimenti avviati dai giudici nazionali e fa salva in ogni caso la possibilità di misure cautelari di cui ci si chiede se queste misure cautelari potranno mai andare in senso diverso da quello della decisione della Commissione adottata o contemplata e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia qualora il giudice intendesse mai discostarsi dalla decisione della Commissione. Allora a nostro sommesso avviso a livello dell'Unione Europea vengono messe in discussione in nome della coerente e uniforme applicazione del diritto antitrust europea sia l'efficacia diretta della normativa antitrust europea sia l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi. Il rapporto di vera e propria subordinazione dei giurici nazionali nei confronti della Commissione è a nostro avviso aggravato dalla diversità degli interessi che sono rispettivamente tutelati dall'attività di public e private enforcement e dal rapporto di pregiudizialità tra l'attività amministrativa svolta dalla Commissione che, non dimentichiamolo mai anche se è un argomento su cui tutti scivolano è un'autorità antitrust davvero anomala se non fosse altro perché si identifica con l'autorità di governo dell'Unione Europea, cioè a livello dell'Unione Europea si fa quello che in tutti gli altri ordinamenti del mondo si cerca di evitare con la massima cura ci si fa un punto, diciamo, di vanto di dire c'è la totale indipendenza dell'autorità antitrust rispetto al governo invece a livello europeo, senza che nessuno battaciglio si identifica il governo con l'autorità antitrust e non si tiene conto delle gravi implicazioni che questo può comportare in tanti casi se non fosse altro a livello di immagine visto che la moglie di Cesare non deve essere nemmeno sospettata va anche considerato che l'eventuale sospensione diventa un vero e proprio obbligo de facto per il giudice nazionale di sospendere i giudizi pendenti nell'ipotesi di pendenza di giudizi di impugnazione di una decisione della Commissione dinanzi alle corti di Lussemburgo rinvio pregiudiziale alla corte se il giudice, come si diceva, volesse mai discostarsi da quanto accertato dalla Commissione attesa della decisione solo contemplata della Commissione ebbene, quest'obbligo di sospensione, a nostro avviso non si inserisce agevolmente in tutti gli ordinamenti per molti di questi casi nel nostro ordinamento non è prevista questa sospensione ma poi io vorrei dire questo che a volte questa sospensione potrebbe rivelarsi in qualche caso addirittura inutile proviamo a pensare al caso in cui la decisione della Commissione venga annullata per questioni di carattere procedurale o per insufficienza di prove e intanto i giudizi di risarcimento del danno sono stati tenuti fermi e sospesi per anni qualcuno mi dovrebbe rispondere alla logica di questa sospensione per anni dei giudizi di risarcimento danni a fronte di una decisione annullata per questioni di carattere procedurale o insufficienza di prove mi mancano tre minuti e allora qui bisogna fare una scelta allora date per scontate queste altre considerazioni proviamo a dire che a nostro avviso tutto questo insieme sul quale qualcuno ha riflettuto per esempio la scuola di Padova del professor Consolo a mio avviso ha colto bene alcuni aspetti di questa problematica porta ad un contrasto non solo con principi di rango costituzionale quelli relativi all'autonomia e all'indipendenza dei giudici che sono soggetti soltanto alla legge e al diritto di tutti di agire in giudizio per ottenere io direi anche rapidamente la tutela dei propri diritti ma anche con il principio del giusto processo perché non dimentichiamolo con questo sistema si sottopongono i giudici nazionali e le parti al rispetto di una decisione amministrativa e non ad una sentenza resa da un tribunale imparziale ed indipendente allora le ultime considerazioni riguardano poi la supremazia della commissione che abbiamo visto essere inusitata nei confronti dei giudici nazionali anche nei confronti delle autorità amministrative antitrust nazionali c'è una supremazia enorme che è stata consacrata dalla Corte di Giustizia nel caso recentemente, nel caso Tele2 Polska nel quale ha detto che l'autorità antitrust nazionale non può mai fare un statement di accertamento negativo per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 101 e 102 deve limitarsi a dichiarare di non aver motivo di intervenire questo lo fa sulla base di queste considerazioni la commissione è l'unica autorità competente ad accertare l'inapplicabilità degli articoli 101 e 102 ai sensi dell'articolo 10 riconoscere alle autorità antitrust la facoltà di adottare decisioni di accertamento negativo rischia di pregiudicare il sistema di cooperazione tra autorità antitrust e commissione ebbene a nostro sommesso avviso il riferimento all'articolo 10 non è condivisibile nel regolamento 1-2003 perché disciplina decisioni diverse da quella di mera constatazione dell'assenza di un'infrazione in uno specifico caso e poi ci si può domandare perché l'accertamento impositivo cioè la condanna da parte dell'autorità antitrust nazionale non rovinerebbe il sistema mentre l'accertamento negativo lo rovinerebbe quando si capisce bene che i casi nei quali in base al principio del levis in idem la commissione non potrebbe poi pronunciarsi in epoca successiva sono casi molto limitati perché ci vuole identità di soggetti di oggetti di fatti allora sono arrivato all'ultimo slide con molto compiacimento del presidente e quindi voglio soltanto dire questo che a mio avviso ricondurre ad un armonioso rapporto public enforcement e private enforcement è un'impresa difficile perché gli interessi sottesi sono ontologicamente ben diversi quindi questo rende a mio avviso non dico difficile ma quasi impossibile e credo che in caso di necessità ognuno di questi devono essere lasciati liberi di andare ciascuno per la propria strada se è la politica di concorrenza da perseguire se l'interesse pubblico lo richiede che si vada verso gli impegni se una parte ha bisogno per poter rimanere sul mercato per essere esercita dei danni di avere giustizia in tempi rapidi il risarcimento e che l'abbia tutto questo è aggravato a livello di Unione Europea da un complesso intreccio di competenza tra commissioni, giudici nazionali autorità antitrust che non ha trovato a mio avviso ancora un assetto equilibrato e definitivo ma sotto questo profilo fatemi dire una cosa siamo riusciti nel nostro ordinamento grazie a convegni come questi e grazie a dei giudici molto lungimiranti rappresentati qui dalla dottoressa Muscolo e oggi pomeriggio dalla dottoressa Tavassi a far sì che nel nostro ordinamento ci siano finalmente dei giudici specializzati in antitrust che ci dà molta a noi legali molta tranquillità e molta sicurezza perché sappiamo di essere capiti in quello che diciamo noi ci promettiamo di chiedere se la stessa cosa non debba per caso valere anche per i giudici amministrativi perché anche loro hanno grosse responsabilità e grosso ruolo per cui perché dovevano essere giudici che arrivano da esperienze completamente diverse per due anni o tre fanno l'antitrust e poi scompaiono non credo che parlo ovviamente del tanno sto parlando del Consiglio di Stato che ha dato prova di una notevole qualità in tutti questi anni io credo che se si faranno tutti i giudici specializzati questo permetterà a loro di vincere complessi di inferiorità nei confronti della Commissione e permetterà a loro di districcarsi meglio in quelle che sono le difficoltà insite in questa materia e dovute anche a questa difficoltà di rapporto tra istituzioni europee e autorità nazionali amministrative e giurisdizionali che sono tutte chiamate ad applicare il diritto antitrust europeo grazie siamo l'avvocato Raffaelli per l'appassionata arringa che ha fatto diciamo sempre così e do la parola alla professoressa Carmene Rero che insegna diritto commerciale alla Università di Vagliadolì la quale si parlerà della difesa passing on nelle azioni follow on prego ecco buongiorno a tutti in primo luogo vorrei ringraziare il professore Carpagnano e il professore Benacchio per avermi gentilmente invitato a partecipare in questo convegno è un onore un piacere per me essere qui all'Università di Trento accanto e davanti e a tanti altri illustri e professionali in secondo luogo vorrei chiedere scuse per il mio italiano e da molto tempo che non lo parlo farò del mio meglio ma spero che sappiate scusare i miei sbagli e come ha detto il professore Frignane la mia relazione verserà sulla difesa passing on o eccezione di trasferimento di costi in follow on action sicuro molto meno stimolante che quella del mio compatriotta il professore Alfaro spero che non di meno vi risulti di interesse e le condotte contrarie al diritto della concorrenza quali possano essere i cartelli o gli abusi di posizione monopolistica nei mercati di solito comportano prezzi supracompetitivi e per questa ragione che spesso i danni concreti derivati da queste pratiche si identificano con i sovraprezzi che i clienti o gli acquirenti diretti sono stati costretti a pagare alle imprese trasgrettrici e spesso inoltre al soffrire un incremento dei loro costi questi sovraprezzi finiscono col ripercuotersi a cascata sui successivi acquirenti di un bene che rientrano nella catena di produzione e distribuzione fino ad arrivare al consumatore finale vale a dire in definitiva sugli acquirenti indiretti che non hanno nessun rapporto con gli autori della violazione l'argomento della ripercussione dei costi o passi non si crea proprio in quest'ultimo scenario all'interno del quale l'acquirente del prodotto cartellizzato non è il suo destinatario finale con questo termine importato dall'ambito statunitense si fa riferimento alla possibile considerazione giuridica del fatto che una impressa che compra a un provveditore o fornitore che attua un comportamento anticoncorrenziale potrebbe limitare le proprie perdite economiche trasferendo la maggiorazione dei prezzi sui propri clienti un comportamento che ci porta a formulare due distinte domande da una perspettiva giuridica in primo luogo può essere presentata per il convenuto questa situazione come prova a discarico rispetto a una causa per risarcimento si tratterebbe della passi non defense propriamente detta e una seconda domanda gli acquirenti indiretti sui cui sono stati scaricati i sovraprezzi sono legittimati ad esigere alle impresse trasgredetici le responsabilità per danni e perdita si infoca la ripercussione da una perspettiva offensiva tale questione sviluppata sia all'interno di diversi casi della giurisprudenza statunitense entrata a far parte del dibattito europeo sul fomento dell'applicazione privata o private enforcement così emerge nelle linee del libro verde e del libro bianco della commissione così come nella bozza della non nata direttiva arrivandosi in questi ultimi due documenti ad una proposta concreta per la sua risoluzione nell'ambito spagnolo il problema della ripercussione dei costi da una perspettiva difensiva costituisce uno dei principali argomenti utilizzati in una sentenza relativamente recente si tratta della sentenza dell'audienza provinciale di Madrid di 3 ottobre 2011 all'interno del famoso cartello dello zucchero concretamente in questo caso il tribunale sulla base della ripercussione del sovraprezzo assolse il convenuto la Ebrofuz delle pretesse risarcitorie sollevate da diversi impressi da dolci bisogna ricordare che Ebro accanto ad altre cooperative partecipò in un cartello di fisazione del prezzo dello zucchero per uso industriale cartello che fu sanzionato dall'autorità garante della concorrenza spagnola e confermato in via giudiziale per capire i problemi che porre l'applicazione dell'argomento della ripercussione dei costi nel marco di esercizio di azioni di danno e proporre eventuali soluzioni o risposte consideriamo conveniente partire da una piccola analisi che da una perspettiva economica permette di comprendere la linea centrale o basica di questo argomento in funzione del risultato di quest'analisi procederemo ad analizzare la risposta giuridica che questo fenomeno ha ricevuto tanto nell'Unione Europea come negli Stati Uniti e nell'ordinamento spagnolo e finalmente ci spingeremo fino a dare brevemente conto di diverse scelte di politica giuridica esaminiamo adesso la ripercussione dei costi da una prospettiva economica inquadrandola nel dibattito più generale sui possibili danni che un cartello o un'altra pratica anticoncorrenziale di effetti analoghi può produrre nel patrimonio di un compratore direttore dei cartelisti certamente non si pretende qua a fare un'analisi economica esatta né esaustiva sugli effetti economici derivati di un cartello ma vogliamo solo fornire un'analisi approssimativa che consenta di porre del rilievo quale sia lo scheletro o idea centrale di questa ripercussione di costi ai fini di poter avvordare il suo trattamento giuridico in maniera coerente nel dibattito sulla Pachinon esiste la convinzione che gli acquirenti diretti che sono stati obbligati a pagare sovrapprezzi ai loro fornitori sono in condizione di rifarsi scaricandoli totalmente sui loro clienti e così recuperare l'eventuale perdita e patita un'affermazione non del tutto veritiera che mal si inquadra all'interno delle regole che regola il mercato basate sulle leggi dell'offerta della domanda in questo senso tale affermazione è satta solo in determinati casi del tutto eccezionale come quando gli acquirenti diretti si trovano di fronte a una domanda totalmente rigida cioè insensibile alla variazione di prezzi che gli permette di vendere la stessa quantità indipendentemente dal prezzo fisato nonostante come regola se l'acquirente diretto cercasse di trasferire integralmente sui suoi clienti gli acquirenti indiretti il sovraprezzo pagato al trasgressore delle norme della concorrenza la menzionata analisi indica che non ci riuscirebbe e che questa ricarica il sovraprezzo finirebbe con essere nella realtà condivissa da entrambi ciò con una proporzione che dipenderà non dalla volontà dell'acquirente diretto se non dall'elasticità di mercato relativa all'offerta e alla domanda dei beni dei mercati sotto analisi se la domanda è molto inelastica rispetto all'offerta la ricarica del sovraprezzo ricadrà soprattutto sui consumatori acquirenti indiretti ma in caso contrario in presenza di una domanda molto elastica rispetto all'offerta la ricarica ricadrà fondamentalmente sui venditori acquirenti diretti possiamo scomporre questo ragionamento così in conseguenza degli effetti di un cartello un compratore diretto può subire determinati danni di natura patrimoniale in un computo globale questi danni consisteranno nel sottrarre dai suoi profitti precartelli o precartello scusate gli incasi ottenuti durante il periodo di esistenza del cartello questo danno è il risultato della valutazione congiunta di tutti gli effetti economici che possono derivarsi per il compratore diretto di un cartello che sono in principio tre in primo luogo l'effetto diretto o overcharge che sarebbe l'incremento dei costi come risultato del pagamento di un sovrapprezzo in un bene e in secondo luogo gli effetti indiretti derivano della ricollocazione del prodotto cartellizzato nella catena di produzione e distribuzione dei beni nel mercato e cioè del carattere intermedio dell'acquirente diretto in questi casi possono derivare i due effetti economici per l'acquirente diretto di segno opposto in quanto la sua incidenza patrimoniale positiva o negativa in primo luogo abbiamo l'effetto di ripercussione o passi non ovvero nella misura nella quale il compratore diretto può trasferire l'incremento dei suoi costi e i suoi prezzi e l'effetto sulla quantità venduta effetto volume o effetto output che sarebbe la misura nella quale questo incremento di prezzi conduce a una riduzione del volume di vendita in conclusione i danni totali subiti per il compratore diretto perdita dei benefici o entrate sono il risultato dell'unione o somma di tutti questi effetti di segno diverso danni totale sovrapprezzo meno la ripercussione di sovrapprezzo più la perdita dei benefici come conseguenza di una riduzione di vendita vediamo adesso un piccolo esempio con tutte le sue semplificazioni che permetta spiegare l'argomento da noi esposto che sarebbe che l'applicazione coerente della passi non defense deve tenere conto non solo dell'incremento dei prezzi ma anche di altre circostanze se si vuole ponderare realmente l'effetto del cartello sul patrimonio del compratore diretto così partiamo di uno scenario iniziale nel quale il prezzo di acquisto di un bene è di un euro per unità il prezzo di vendita da parte del compratore diretto è di 1,5 con un margine commerciale di 0,5 a questo prezzo vende 100.000 unità di prodotto ottenendo così un beneficio netto di 50.000 margine commerciale per il numero di unità vendute o in casi totali meno costi totali introduciamo ora una variante in questo scenario iniziale dovuto alla formazione di un cartello tra i fornitori del bene che porta ad un incremento del prezzo di acquisto in 0,50 per unità e consideriamo un caso nel che si trapassi solo parzialmente questo incremento sull'acquirente finale in questo modo il compratore diretto di fronte a questa salita del costo in 0,5 per unità fissa un nuovo prezzo di vendita in 1,8 cioè lo fa salire il 0,3 assumendo lui il 0,2 restante a questo prezzo e in applicazione della legge della domanda decrescente vende 90.000 unità di prodotto qual è stata la variazione dei suoi profitti adesso otterrebbe dei benefici netti di 27.000 euro di nuovo margine commerciale per un numero di unità vendute se li compariamo con le entrate precartello osserviamo che ha subito una perdita di 23.000 euro cercheremo adesso di arrivare a questo risultato in maniera indipendente tenendo conto in maniera indipendente e l'effetto sovrapprezzo ripercussione e quantità il sovrapprezzo sarebbe di 45.000 quello che paga di più in ogni unità acquistata meno quello che riesce a ripercuotere 0,3 per ogni unità venduta 27.000 e a questo dobbiamo sumare 5.000 equivalente alle entrate che avrebbe ottenuto delle vendite che non si sono realizzate come conseguenza dell'incremento dei prezzi in questo caso osserviamo che se teniamo in considerazione per calcolare il danno subito unicamente il sovrapprezzo pagato 45.000 si fornirebbe al compratore diretto un indemnizzo maggiore rispetto al danno effettivamente subito perché questo non è di 45.000 se non di 23.000 dato che è riuscito a trasferire parte del sovrapprezzo al compratore indiretto ciò nonostante se teniamo in considerazione unicamente dell'effetto passinon cioè la rispercussione del sovrapprezzo al prezzo di vendita per sottrarlo dal sovrapprezzo otterrebbe un indemnizzo di 18.000 inferiore rispetto al danno patito perché non si interrebbe conto dell'effetto quantità cioè quello che smette di guadagnare per l'incremento del prezzo di rivendita che conduce a una diminuzione del volume di vendita che rilevanza giuridica si può dare a questi effetti indiretti derivati dalla pratica anticoncorrenziale nell'esercizazione di danno antitrust e la possibilità di utilizzare la ripercussione del sovrapprezzo è stata contemplata vista con enorme sfiducia nel diritto antitrust degli Stati Uniti che non riconosce con carattere generale la passinon né nella sua vertente offensiva né nella sua vertente difensiva in questo senso già a principio degli anni 20 la Corte Suprema rifiutò la possibilità di utilizzare la ripercussione dei costi per il convenuto per respingere una causa per danni allegando la necessità della semplificazione giuridica delle ramificazioni associate a tutta condotta empresariale in un'economia dinamica e di permettere l'elaborazione di regole giudiziali interpretative semplici e effettive questa linea di giudizio si conferma nella causa Hannover-Sor versus United-Sus dove si insiste di nuovo sulle difficoltà pratiche legate al computo dei danni da stimarsi l'argomento della ripercussione inoltre si aggiunge una nuova tesi vincolata alla finalità di sua soria dell'applicazione privata si parte dell'idea che gli acquirenti diretti sono demandanti o attori più efficienti degli indiretti che di solito avranno meno incentivi per sollevare questo tipo di azione frammentazione del danno difficoltà di prova eccetera il rifiuto della Passinon si spiega così come una forma di incentivare e facilitare al compratore diretto l'esercizio di azioni eliminando uno dei principali ostacoli contro i quali potrebbero incontrarsi le sue pretensioni e concedendogli il diritto alla totalità del sovrapprezzo come corollario logico di questa sentenza o almeno così fu presentato nove anni più tardi si decise Ilinos Brick che negò con alcune eccezioni la legittimazione degli acquirenti indiretti per avviare cause per danni non vi si apportano argomenti nuovi bensì si insiste su questa necessità di semplificazione e sulle ragioni di coerenza che impedirebbero di rifiutare la Passinon nella sua vertente difensiva e riconoscerla nella sua vertente attiva i quali potrebbero inoltre condurre una situazione di responsabilità multipla del convenuto che potrebbe vedersi obbligato a fare fronte alla totalità dell'inizazione in due o più livelli questa decisione sollevò un'enorme polemica l'eccezione furono denunciate come insufficiente per alcuni autori e diversi stati reagirono permettendo ai consumatori indiretti di reclamare i danni e pregiudizi sotto la normativa antitrust estatale in conclusione un demandante federale ha il diritto al rimborso della totalità del sovrapprezzo monopolistico anche se la maggior parte di questo sia stata scaricata senza che si producano riduzioni in funzione dei danni sofferti dagli acquirenti indiretti teoricamente queste potrebbero recuperare il triplo dei danni sofferti i danni ripercuoti sotto le provisioni dei diritti statali pertanto oggi la regola generale negli Stati Uniti almeno a livello federale è non riconoscere nessun tipo di rilevanza giuridica agli effetti economici indiretti derivati di un cartello né dall'ottica dal trasgressore né dall'ottica dal compratore indiretto la protezione giuridica si centra nel riconoscimento e calcolo dei danni diretti o sovraprezzi questa interpretazione ubidisse a determinate caratteristiche del sistema di applicazione del diritto privato americano nel quale la finalità di sua soria gioca un ruolo di primo ordine con manifestazioni in altre norme come il meccanismo di triple damage o danni tripli tuttavia questa soluzione non è essenta da polemica e continua a sezzare l'oggetto di furiosi dibattiti tra i difensori del suo mantenimento e il propugnatore di una derogazione di questi principi e del riconoscimento della trascendenza giuridica della passione nelle sue due vertenti così per esempio l'america modernization commission appoggia quest'ultima soluzione e propone che tutte le azioni di danno antitras si incardinino in un unico foro di carattere federale in questo foro i danni sarebbero quantificati con il limite massimo del triplo del valore dei sovraprezzi sofferti dal compratore diretto e distribuiti tra tutti i danneiati in Europa il tema della ripercussione dei danni non costituisce una novità assoluta perché gli è stato sollevato in scenari nei quali si chiedeva il rimborso di tasse pagate in contrapposizione nel diritto comunitario e quindi indebitamente questa giurisprudenza all'interno della quale si realizza la lettura o interpretazione restrittiva di questo argomento può costituire un'utile referenza per determinare lo scopo nella pratica di un effetto di repercussione e i criteri che devono essere presi in considerazione per ponderarlo all'interno della responsabilità per i leciti antitras la commissione europea ha deciso l'eventuale ammissibilità della ripercussione di costi o danni nelle sue due prospettive difensiva e attiva sebbene il libro verde raccoglieva diverse possibilità finalmente si otterrà per la soluzione contraria al diritto americano questa soluzione si spiega o viene spiegata con l'importanza che nell'ambito europeo si attribuisce alla finalità compensatoria o principio compensativo dell'applicazione privata delle norme della concorrenza e della responsabilità civile in generale e presenta la passinon come una manifestazione del principio generale che proibisse nella maggior parte degli ordinamenti giuridici e l'arricchimento senza causa in Spagna in assenza di norme speciali relativa al risarcimento del danno per violazioni della normativa antitrust bisogna rifarsi alla normativa generale che regola il risarcimento dei danni cioè alle norme principi generale della responsabilità civile contrattuale e extracontrattuale cercheremo quindi di esaminare la viabilità della passinon all'interno di queste paute il primo principio colonna portante di tutta la teoria della responsabilità nel nostro sistema è la funzione essenzialmente compensatoria o risarcitoria ad essa attribuita in questo senso la compensazione è orientata a riparare il danno subito e a risportare la vittima nella situazione che avrebbe avuto di non essersi commessa l'infrazione dunque la compensazione non si può considerare né una fonte di arricchimento né una sanzione dell'autore della violazione consideriamo che precisamente in questa finalità generale compensatoria e nel principio da essa derivato che vieta l'arricchimento senza causa ove trova il suo fondamento teorico la passinon defense vediamo vediamo brevemente il caso previamente accennato dell'audienza provinciale spagnola in questo caso in confronto alle pretese di risarcimento di diversi imprese di dolce biscotti o cioccolato dei danni derivati della sua partecipazione ad un cartello di fissazione del prezzo dello zucchero industriale l'impresa convenuta la Ebro Foods allegò che le demandanti in realtà non avevano subito nessun danno perché erano riusciti a trasferire l'incremento dei prezzi ai loro clienti supermercati e altre grandi superfici di distribuzione questo argomento venne accolto dal tribunale che assolse il convenuto in conformità ad un ragionamento niente presunzioni e centrato esclusivamente sulla constatazione del fatto che le demandanti avevano aumentato il prezzo dei loro prodotti questo incremento lo basano in due argomenti manifestazioni pubbliche in questo senso delle proprie demandanti che avevano sollecitato che si rendesse pubblica l'autorità della decisione la decisione dell'autorità garante della concorrenza per proteggere la sua immagine commerciale e la constatazione di un aumento di prezzi parallelo superiore all'aumento del prezzo del zucchero in determinati prodotti cioccolato e derivati del cioccolato a nostro parere questa sentenza realizza un'analisi economico parziale degli effetti economici indiretti derivati dal cartello considerando unicamente l'effetto sovraprezzo e l'effetto ripercussione e questo è ultimo in una maniera totalmente indiziaria o indiziaria ma senza analizzare la trascendenza dell'eventuale effetto quantità o volume cioè la possibile diminuzione del volume di vendite quale conseguenza dell'incremento dei prezzi da una perspettiva giuridica si centra soltanto come si dice in italiano nella perdita effettiva o danus emergens ma non entra a analizzare l'eventuale mancato profitto che si sarebbe dovuto calcolare dato che la vittima la quinta diretta è un imprenditore da una perspettiva no no devo fare le conclusioni da una perspettiva politico-giuridica consideriamo che interpretazioni molto ampie della passi non-defense determinano nella pratica che l'autore della violazione sia il principale beneficiario delle contraddizioni e difficoltà che possano sollevarsi in un procedimento la passi non significa considerare gli eventuali effetti indiretti derivati da un cartello sebbene abbiamo considerato che i principi generali della responsabilità civile impediscono il rifiuto di questa trascendenza giuridica bisogna essere particolarmente cauti nella sua applicazione e rifiutare interpretazioni semplicistiche o incomplete e in caso contrario c'è il rischio di vedere l'applicazione privata ridotta a un mero riconoscimento di diritti privo di effettiva praticità la passi non-defense funzionerebbe come un parapetto quasi automatico dei trasgressori di fronte a pretese risarcitorie eliminerebbe gli incentivi delle vittime che in principio sono in una posizione migliore per avviare questo tipo di azione concludo due minuti soltanto per uno lui ha avuto di più discriminazione sembra più rilevante che consideriamo che in virtù di questa analisi la quantificazione dei danni nei casi in cui chi pretende il risarcimento non sia il consumatore finale può realizzarsi conforme a uno di questi parametri che partono da distinte considerazioni per fissare il quantum risarcitorio in primo luogo possiamo disestimare il sovrapprezzo come parametro iniziale di riferimento in base al quale calcolare il danno e basare il ricorso secondo una valutazione integrale dei danni subiti in attenzione all'impatto della condotta nel conto di risultato dell'acquidente diretto si utilizzerebbe come parametro pertanto il lost profit come si fa in altre pratiche come le pratiche escludenti questa soluzione limita considerabilmente nella pratica il gioco della passione tuttavia è possibile che conduca a delle quantità inferiori a quelle che risulterebbero dell'applicazione del criterio del sovrapprezzo la seconda possibilità sarebbe il mantenimento del sovrapprezzo overcharge come parametro di calcolo dei danni il demandante chiederebbe come risarcimento quindi le quantità pagate in eccesso se il convenuto considera che questa quantità non corrisponde al danno realmente sofferto e che in questo caso il demandante verrebbe ingiustamente premiato dovrà provare la montare effettivo del danno in questo senso dovrà dimostrare non solo il trasferimento del sovrapprezzo ma altresì dovrà dimostrare che questo aumento non ha prodotto una riduzione del volume di vendite o d'altentrata il carico probatorio del convenuto è certamente complesso e può riuscire a cadere che non riesca a dimostrarlo può dare lugare a una situazione di arricchimento senza causa del demandante noi consideriamo che in ogni caso questa situazione sia preferibile al rigetto della pretensione motivato da una lettura ampia della passi non defensa che può derivare in un arricchimento ingiusto del demandato in considerazione consideriamo preferibile una situazione di arricchimento ingiusto del demandante vittima che del convenuto trasgressore è conveniente ricordare quale sia lo scenario all'interno del quale si solleberanno i problemi legati al trasferimento dei costi cartelli generalmente una infrazione specialmente grave del diritto della concorrenza cartelli la cui esistenza saranno spesso stati stabiliti dalle autorità amministrative e cartelli che implicano una condotta dolosa e dai quali si deriva una ripercussione patrimoniale immediata e diretta nel patrimonio dell'acquirente inoltre considerando la mancanza di incentivi degli acquirenti indiretti per avviare cause legali di danni antitrust difficoltà provatoria eccetera è molto più probabile lo scenario dove il convenuto trasgressore si arricchisca ingiustamente rispetto all'altro dove deve affrontare un'indebita compensazione multica in conclusione consideriamo che la soluzione più equa sarebbe quella che l'eventuale indeterminazione o difficoltà che possano sollevarsi nel computo dei danni siano sopportate da quello che viola la norma e non dai soggetti vittime della infrazione grazie collega di Vagliadolit a tagliare posso però garantirle che non ha avuto un trattamento peggiore rispetto all'avvocato Raffaelli senza perdere tempo subito il professor Luigi Prosperetti non dico neanche il titolo lo dici tu così guadagniamo del tempo è troppo lungo antitrust buongiorno grazie all'università per l'invito e grazie al professor Frignani per aver divorato una buona parte del mio intervento nella sua breve introduzione iniziale le corti europee stanno producendo decisioni noi siamo credo che siano otto anni ormai trascorsi dal libro verde sta diventando come la direttiva elettricità che tutti quelli che si occupavano dell'elettricità pensavano alla fine non sarebbe uscita mai ammesso che sia poi una direttiva ma lo dicevo in tono scherzoso per dire che il lavoro che ha fatto la commissione di fertilizzare il terreno e spingere sta dando i suoi frutti le decisioni sono ancora un numero relativamente basso ma nella pipeline decisoria ci sono un sacco di casi molti a Londra si parlava di forum shopping prima ma molti altri anche in altri paesi anche in Italia allora quello che volevo fare rapidamente è cercare di tirare qualche filo comune con riferimento ma sostanzialmente all'onore probatorio e poi dire una parola sul passing on di taglio come volete come vedrete di tono forse scettico sulla possibilità praticamente di calcolarlo di stimarlo il professor Frignani appunto mangiandomi un pezzo di intervento spiegava il cambiamento dell'orientamento della Cassazione ma del resto è mio non avrei mai dovuto pensare di poter dire qualcosa sulla Cassazione che non diceva il professor Frignani il punto vedete è che in fondo così fan tutti guardando un piccolo campione di quelle che sono attualmente le sentenze nei principali paesi europei si vedono secondo me due cose primo in materia di intese in tutti i paesi i giudici sembrano cercare scorciatoie sotto il profilo della prova del nesso causale primo secondo la stessa cosa non è vera per quanto riguarda azioni follow on derivanti da pratiche escludenti quindi volevo dire qualcosa sugli altri paesi fortunatamente sono scappati il professor Frignani ma e poi dire qualcosa su alcune recenti decisioni inglesi di abuso escludente sono molto interessanti in Olanda in una sentenza recente nel caso ABB Tenet molto recente che sono riuscito parzialmente a capire grazie a Google Translate che però ogni tanto sbaglia ma spero che non devono avere sbagliato sui punti topic il tribunale ha fatto una cosa che appunto ancora più radicale ha detto beh c'era addirittura una figura relativamente debole di intesa che è la ripartizione geografica del mercato i mercati si possono ripartire geograficamente mica solo per aumentare i prezzi ma questo è un'osservazione da economista e dice beh è molto plausibile che siccome la natura e l'obiettivo del cartello è precisamente quasi per definizione far pagare di più i clienti beh allora non c'è nessun problema particolare di provare che ci sia stato un aumento e questo è in re ipsa proprio assolutamente scolpito è giusto è sbagliato io fortunatamente non sono un giurista quindi non mi avventuro però volevo far vedere un trend per poi rifletterci ora in prospettiva pratica che è quella l'unica che posso avere davanti a degli illustri giuristi in Spagna la sentenza dello zucchero di cui parlava la professoressa Herrero prima dal punto di vista del passing on a me ha colpito per un altro motivo cioè che la Corte Suprema ha ritenuto che fosse stato provato il nesso causale perché c'era una frase nella decisione del Tribunale della Competenzia che diceva lo traduco in italiano il danno causato era di estrema gravità specialmente in quanto esso aveva influenzato prezzi di prodotti sottoposti alla concorrenza internazionale e questo è un nesso causale vedete quindi come non sia soltanto la nostra Cassazione che cerca di 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 abbreviare il percorso sul nesso causale soltanto sulle n cause follow on di R.C. auto ma si ha una tendenza almeno condivisa da queste due sentenze non ce ne sono altre quindi almeno se ci sono mi sono ai miei scappati è giusto è sbagliato non lo so però un punto interessante per capire è confrontare con quello che sta succedendo in materia di abusi escludenti prima però naturalmente ricordo e ci torno tra un momento anzi ne parlo brevemente l'ulteriore restrizione che ha inserito la nostra Cassazione nelle sentenze più recenti che è quella per così dire di un obbligo di usare argomenti freschi per difendersi scusi il termine è ironico ma penso che sia pittorico non ci sono argomenti freschi se ci sono argomenti freschi o c'era un cattivo avvocato o c'era un cattivo economista o magari anche tutte e due un cliente particolarmente sfortunato ma l'idea che dopo tre gradi di giudizio ci siano gli argomenti freschi non ci sono non si danno però il punto è interessante perché vedete quello che fa nella visione di un economista un'autorità per la concorrenza è che c'è una serie di comportamenti ognuno dei quali potrebbe avere con un certo livello di probabilità un effetto e io vedo da economista un procedimento antitras per cartelli come la ricerca di questi comportamenti la valutazione dei loro potenziali effetti e poi una decisione sintetica che dice sì è un illecito concorrenziale oppure no il problema vedete che quando ci sono contratti standardizzati lo so che non sono standardizzati però sono abbastanza standardizzati le RC auto ma il cartello dei microfoni ecco prego non aprire un istruttore sui microfoni nelle prossime ore il cartello dei microfoni ha venduto gli stessi microfoni più o meno a tutti il microfono è un prodotto standardizzato il contratto per la vendita è un contratto standardizzato ma il cartello delle centrali nucleari spero sono tutte diverse le centrali nucleari sono contratti diversi sono venduti ad acquirenti che hanno caratteristiche potere countervailing power profondamente diverse allora qual è il problema in questo approccio di brutale semplificazione del nesso causale che magari può essere efficiente sotto profilo processuale forse non nel mio campo ma solo quando c'è un'estrema standardizzazione dei contraenti e dei contratti quando c'è una differenziazione degli uni e degli altri la mia matrice si può essere combinata in modi molto diversi vendendo la centrale nucleare a Tizio a Caio sempre per questo io credo che sia dal punto di vista economico sbagliato utilizzare una brusca drastica semplificazione di questo genere ogni qual volta c'è variabilità nei prodotti nei clienti nei contratti se sia giusto farlo nei casi più standardizzati è un problema giuridico e quindi io mi astengo dal punto di vista economico forse potrebbe essere ragionevole farlo insomma non ci sono argomenti freschi ci sono diverse misture di argomenti usati per così dire e questi devono essere ammessi almeno nei casi che sottolineiamo alla storia molto diversa per gli abusi escludenti ci sono tre casi decisi dal competition appeal tribunal il cat britannico e c'è una sentenza del tribunale di Milano del caso Keiko quindi sono quattro casi poi c'è un'ordinanza in un procedimento in corso a Milano che è esattamente sulle stesse linee il cat è molto interessante perché per il competition act britannico nelle in materia di di danni è strettamente vincolato dalla decisione sanzionatoria e è parzialmente vincolato più precisamente è vincolato tranne che lo neghi motivando è vincolato anche dagli accertamenti fattuali finding of facts nella decisione di infringi attenzione tutto interessante perché in Enron Cole to travel e Albion Water che sono tre casi che grazie al vostro splendido osservatorio arrivano praticamente appena vengono firmati arrivano le mail a tutti noi e ce li andiamo a leggere con interesse c'è stata un'analisi estremamente dettagliata in cui fatto interessante per motivi di tempo non posso dare dettagli ma in due di questi tre casi la corte è andata a analizzare uno dei punti fondamentali dell'azione dell'attore che diceva ma nella sentenza scusate nella decisione in Enron Cole l'autorità antitrust competente aveva scritto che il comportamento di questa di questa convenuta aveva posto Enron Cole in una posizione di svantaggio competitivo cito testualmente in Two Travel o Cardiff Bus come lo volete chiamare c'era una 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 il tribunale scusate l'antitrust ha detto che il comportamento del convenuto era stato un fattore che aveva contribuito l'autorità il CATT ha fatto un'analisi molto dettagliata delle prove e ha concluso che nonostante ci sia un obbligo di massima di essere vincolato ai finding of facts questo non si applica certamente quando questi findings non sono fondamentali ma sono incidentali la differenza essendo che un finding fondamentale è fondamentale per la decisione di infringement un finding incidentale anche se lo togli rimane nella decisione di infringement questo a me sembra un criterio molto sensato per un economista ed è un criterio che è stato applicato in maniera estremamente dettagliata in particolare nel caso to travel che forse prima o poi dobbiamo farci una riflessione il forum shopping costa io ho visto che dunque la convenuta che era Cardiff Bus che trasporta dunque la decisione è stata emessa a luglio 2002 soltanto nell'esercizio 2002 ha speso 2 milioni e 200 mila sterlino di illegal fees quindi non so quanto avesse speso negli anni precedenti il tutto per poi pagare un danno di 60 mila sterline 90 mila sterline forum shopping e qui e quindi a tutto il mio appoggio il governo britannico che sta cercando scorciatoie perché queste robe non possono costare queste cifre se no non si fanno non è razionale fare delle azioni di questo genere con dei costi ma questo ci porterebbe lontano voglio invece restare i 12 minuti i pochi minuti che mi rimangono in parlando segnalando una cosa che ho trovato molto interessante Albion Water l'ultima decisione c'è una dettagliatissima analisi sulla perdita di chance che è una piacevolissima lettura che consiglio a tutti anche in un giorno di sole non solo di pioggia okcom è interessante per vari motivi in primo luogo okcom esattamente come il cat era okcom contro telecom italia abuso escludente esattamente come come le decisioni del cat dice chiaramente rifacendosi esplicitamente ai nazpaghe che si è una prova privilegiata del comportamento ma deve essere accertato nel suo causante in base a questo principio il giudice ha rifiutato una delle due richieste il lucro cessante perché l'attore non aveva fornito alcuna valida prova di aver subito un lucro cessante ha invece accettato il danno emergente in base a una CTU la cui analisi ci porterebbe lontano e non c'è tempo di percorrere insomma qual è il punto ci sono due comportamenti probabilmente diversi i tribunali o perlomeno molti tribunali vedono con simpatia la ricerca di scorciatoie per le intese per essere più preciso vedono con favore la ricerca di scorciatoie per quanto riguarda la prova del nesso causale sulle intese non vedono assolutamente questa necessità nel caso degli abusi escludenti e questo è assolutamente ragionevole per un economista perché gli abusi escludenti sono un'altra roba non è mica detto che nel cartello dei microfoni grandi abbia colpito anche un acquirente di microfoni piccoli il mercato può essere può sembrare lo stesso ma possono esserci differenze geografiche differenze di nicchie di mercato che vanno valutate e poi naturalmente c'è il grande problema su cui il nostro diritto letto da un economista fa fatica a pigliare un orientamento chiaro che è quello del comportamento del danneggiato omissivo commissivo quanto le decisioni della Cassazione in materia lette da un economista suscitato non ha certo interrogativo cosa vuol dire non assumere rischi particolari è un'impresa certo che deve assumere rischi ma anche questo ci porterebbe lontano insomma gli ultimi secondi volevo parlare di Passing On io ho molto apprezzato come diceva la professoressa Herrero sul Passing On e come solo appunto un economista può apprezzare l'esposizione una cosa economica alla parte di un professore di giustruenza per noi è una piccola vittoria siamo sempre considerati proprio però questa è la mia osservazione in pratica non è quasi mai possibile misurare in modo relativamente certo il Passing On se voi date lo stesso dataset a Paolo Buccirossi e a me siamo molto amici lui bravo io meno bravo ma la probabilità che noi otteniamo risultati diversi sul Passing On è leggermente superiore al 100% ma sono vi assicuro lavori fatti veramente bene il suo senz'altro qualche anno di troppo ma però insomma onesti perché perché è troppo difficile e perché non ci sono i dati vi spiego la migliore spiegazione la dà la Corte Suprema tedesca nel caso Orwi Carbon Paper che è un caso molto del 2011 in cui scoperchia con solo in maniera molto germanica il vaso di Pandora del Passing On e fa la lista di tutti i fattori che possono influenzare il Passing On e dice ma dal punto questa sentenza è normalmente citata perché ha finalmente introdotto il Passing On nel sistema tedesco è vero però se la leggete ci trovate un sacco di altre cose interessanti come si fa come si fa a usare il Passing On in maniera in maniera offensiva beh intanto gli acquirenti indiretti devono provare in primo luogo che quelli diretti hanno innalzato i prezzi contemporaneamente all'innalzamento dei prezzi del cartello e dello stesso ammontare speriamo percentuale di quanto li abbia alzato il cartello e chiunque conosca le decisioni di prezzo e imprese sa che non sono una roba che uno fa i listini tutti i giorni e quindi già questo semplice fatto renderebbe molto difficile fornire una prova del genere però il tribunale molto giustamente è qui recuperando e leggendo bene la dottrina economica e diceva in ogni caso non si può presumere niente perché il Passing On dipende dall'elasticità della domanda dall'elasticità delle offerte ed erano le due curve che ci ha fatto vedere la professoressa Herrero prima la durata del cartello l'intensità della concorrenza ai diversi livelli della catena distributiva e poi se volete usarla in modo difensivo il Passing On dovete tenere conto di tutti questi elementi e in più dovete anche tenere conto che se il prodotto non viene semplicemente rivenduto ma è un input per fabbricare qualcos'altro beh allora dovete tenere conto degli altri costi di produzione della qualità dei prodotti come si fa? non si fa nel senso che dall'atto pratico ma io credo anche nominando tre CTU diversi dando a tutti gli stessi dati quindi CTU la probabilità che ottengano lo stesso risultato se non si parlano mi sembra molto basso qual è il punto io credo che Passing On sia un punto molto importante sono perfettamente d'accordo che non debba assolutamente essere ignorato però è probabilmente uno di quei classici casi in cui deve esserci o da economista auspicherei ci fosse un approccio di valutazione equitativa alla luce soprattutto delle analisi delle caratteristiche del mercato perché Paolo e io non stimeremo mai la stessa elasticità della domanda per qualunque roba perché ci sono molti modi diversi di stimare l'elasticità della domanda di lungo periodo di breve periodo di breve periodo potremo intrattenervi a lungo quindi qual è il punto il punto è di capire se l'elasticità della domanda è alta o bassa se la concorrenza è alta o è bassa che cosa approssimativamente succede nelle altre tappe della catena distributiva tutte queste sono considerazioni di carattere prevalentemente qualitativo che possono essere come dire sostenute da numeri da analisi da indagini di mercato di settore ma il punto fondamentale credo è che quando il mondo giuridico si avvicina al problema del passing on deve nutrire aspettativi ragionelvoli su quelli che gli economisti possono o soprattutto non possono fare infatti colpisce il fatto che nella decisione avendo fatto questo descritto questo terribile vaso di Pandora la corte tedesca ha poi deciso in base ad una prova molto evidente perché gli acquirenti indiretti avevano detto ai loro clienti e guarda dobbiamo aumentare i prezzi perché è aumentato il prezzo a monte e questo ha chiuso il caso sul passing on quindi anche qui una scorciatoia forse brutale forse no ma anche qui un indice della complessità dei problemi e del fatto che secondo me molto giustamente le corti cercano delle soluzioni ragionevoli rapide per mezzo di presunzioni e basandosi fortemente su ogni mezzo di prova che ha loro disposizione grazie ringrazio Prosperetti ed ho immediatamente la parola all'avvocato Maurizio Raffaini il quale avrà bisogno di spostarsi da questa parte buongiorno a tutti io so di avere l'ingrato compito di essere colui che vi tiene lontano dal pranzo però vi prometto che in 15 minuti cercherò di sintetizzare 15 anni di storia come newcomer in un mercato in via di liberalizzazione innanzitutto anche io ci terrei ringraziare personalmente l'Università di Trento per l'invito e per la possibilità di essere qui a raccontarvi quella che è la storia di Teneti Poste in Italia negli ultimi 15 anni quindi la storia di un newcomer che entra in un mercato in cui vi era la promessa di una liberalizzazione in brevissimo tempo innanzitutto chi siamo? TNT Poste fa parte del gruppo PostNL che è una multinazionale quotata dalla Borsa di Amsterdam che nasce dalla separazione societaria delle sue due principali anime che sono quella del Corriere Espresso quindi TNT e quella del mercato postale TNT Poste attualmente il gruppo è presente in Olanda dove è operatore del servizio universale così come Poste Italiane in Italia la differenza può sembrare banale ma in realtà è importante cioè Postenelli in Olanda ha un azionariato totalmente privato mentre Poste Italiane in Italia è il 100% di proprietà del governo siamo presenti anche in Germania dove abbiamo una quota di mercato pari al 6% in Inghilterra dove abbiamo il 21% di quota nel mercato e appunto in Italia dove siamo entrati veramente giusto 15 anni fa e ad oggi abbiamo una quota del mercato del 9% come gruppo abbiamo oltre 4.3 miliardi di euro di fatturato e una base lavorativa di oltre 66 mila dipendenti TNT Poste decidi di entrare in Italia nel mercato italiano nel 1998 proprio all'indomani di quella che è stata stata la prima direttiva europea di liberalizzazione del mercato con la quale si è stabilito di aprire il mercato della comunità a una liberalizzazione del settore postale e l'intento di TNT era quello di entrare in un mercato non a fare il subappaltatore dell'incambient ma di aprire una vera propria rete alternativa a quella dell'operatore principale quindi importare in Italia capitali innovazione benefici occupazionali e quindi spingere anche che l'operatore universale ha delle migliorie alla riduzione delle inefficienze che avrebbe portato beneficio sulle sue collettività sia in termini di qualità di prodotto sia in termini chiaramente di prezzo come vi ho detto la liberalizzazione del mercato europeo dal punto di vista del settore postale nasce oltre vent'anni fa e si concretizza sostanzialmente in tre direttive la prima direttiva del 97 con la quale si avvia il processo di liberalizzazione una seconda direttiva del 2002 con cui si stabiliscono ulteriori due fasi intermedie per procedere alla completa liberalizzazione che sono il primo gennaio 2003 e il primo gennaio 2006 e un'ultima direttiva recente del 2008 che stabilisce come data ultima il primo gennaio 2011 quindi sposta in avanti due anni quello che era di quello che era la data finale della liberalizzazione come vi ho raccontato la liberalizzazione a livello comunitario dovrà essere molto semplice e molto rapida una prima direttiva del 97 una seconda direttiva del 2002 che stabilisce il 2003 come primo step di riduzione dell'area di riserva un secondo step nel 2006 e un ultimo step nel 2009 e la terza direttiva che sostanzialmente non fa altro che spostare la liberalizzazione al 2011 quindi abbiamo visto quello che a livello europea dovrebbe essere un processo lineale schematico che in breve tempo portava alla liberalizzazione del mercato postale ma adesso ci tengo a farvi vedere quello che veramente invece è successo in Italia la prima direttiva viene applicata nel 99 quindi con quasi due anni di ritardo rispetto a quello comunitario e la cosa divertente io sono ironico quando dico divertente chiaramente è che ha avuto il paradossale effetto di rimonopolizzare un mercato che sostanzialmente era quasi libero nel senso che c'era in Italia un monopolio statale ma si poteva svolgere il servizio postale ottenendo delle concessioni governative cosa fa l'attuazione della prima direttiva che era la riserva postale quindi un paniere di prodotti che potrebbero essere gestiti solo esclusivamente da posti italiane e abolisce le concessioni governative quindi oltre 70 agenzie private con migliaia di dipendenti si trovano a sapere da un giorno all'altro che quella che dovrebbe essere la liberalizzazione in realtà è una rimopolonizzazione e quindi si trovano di fronte al bivio di chiudere tutte le aziende chiaramente nel 99 questo ha avuto un forte impatto dal punto di vista mediatico anche su quello che era il governo e quindi cosa succede? succede che Poste decide su pressioni governative di dare in subappalto agli ex concessionari i stessi servizi postali che stavano già svolgendo quindi tieniti Poste che decide di entrare in Italia per diventare un concorrente di Poste Italiane si trova magicamente a essere un subappaltatore di Poste Italiane la seconda direttiva viene attuata in Italia nel 2003 io mi permetto di dire senza infamia e senza lodi in quanto non modifica quella che era l'obbrobio giuridico della prima direttiva ma sostanzialmente riduce solo il perimetro della riserva postale nel 2005 inizia il periodo degli istruttori antitrust nei confronti di Poste Italiane la prima istruttoria a che fare riguarda espressamente un prodotto particolare che si chiama Poste Ibrida e secondo l'antitrust Poste Italiane avrebbe abusato della sua posizione dominante in questo settore in quanto avrebbe favorito la propria controllata Postel perché Poste è una galassia di società controllate al 100% a scapito della concorrenza l'istruttoria si conclude l'anno successivo con la condanna di Poste Italiane per abuso di posizione dominante a un'assunzione pecuniaria di 1,6 milioni di euro e chiaramente viene condannata a dover rimettere mani al regolamento attuativo della posta Ibrida in modo tale da favorire la concorrenza sul mercato nel 2007 parte una seconda istruttoria nei confronti di Poste Italiane in questo caso su un bando gara cioè visto che le concessioni e il subappalto di Poste scadevano nel 2007 nel 2007 si trovava di fronte al bivio di un mercato non liberalizzato e quindi quei 70 operatori postali che si trovavano di nuovo ad essere senza un futuro quindi Poste Italiane emette un bando gara ma i 70 concorrenti di Poste Italiane impugnano davanti all'antitrust il bando perché a detta dei concorrenti il bando gara conteneva una serie di clausole considerate anticoncorrenziali vi faccio l'esempio di una clausola cioè se tu lavoravi per Poste Italiane non potevi fare concorrenza a Poste Italiane quindi sostanzialmente cosa succedeva che nel bando gara vi erano una serie di vincoli che mantenevano in vita le agenzie private ma il giorno della liberalizzazione quindi scadendo il bando gara si trovavano senza un mercato l'istruttoria viene chiusa anche in questo caso l'anno successivo con l'accettazione degli impegni proposti da Poste Italiane nel 2009 nasce una terza istruttoria antitrust nei confronti di Poste Italiane in questo caso l'oggetto non è un singolo comportamento di Poste ma un comportamento più ampio atto a escludere un concorrente diretto dal mercato postale che è a TNT Post nel 2011 si attua la terza direttiva anche in questo caso viene ridotto il perimetro della riserva ma non viene assolutamente fatta nessuna liberalizzazione del mercato postale sempre nel 2011 parte una quarta istruttoria nei confronti dell'operatore dominante che è Poste Italiane in questo caso riguarda la posta massiva cioè è un prodotto particolare della corrispondenza e secondo l'antitrust Poste Italiane avrebbe abusato la propria posizione a scapito di un concorrente favorendo in questo caso ancora Postel sempre il 2011 l'antitrust condanna Poste Italiane per abuso di posizione dominante relativamente agli istruttori di cui vi parlavo prima relativamente al caso antitrust nei confronti di TNT Post in questo caso condanna Poste Italiane a una sanzione di oltre 40 milioni di euro nonché chiaramente a dover rimettere mano al proprio operato in modo tale da evitare in futuro quelli che erano i comportamenti abusivi nel frattempo sempre nel 2011 si conclude il procedimento antitrust sulla posta massiva in questo caso c'è un'accettazione degli impegni nel 2012 parte una quinta istruttori antitrust nei confronti dell'operatore dominante in questo caso riguarda l'essenzione IVA cioè tutti i prodotti all'interno della riserva sono in essenzione IVA quindi questo chiaramente è già un vantaggio competitivo nei confronti dati concorrenti che non possono fare prodotti da riserva e quindi si scontrano con già un 20% di delta concorrenziale l'abuso riguarderebbe alcuni servizi che sono all'interno del paniere del servizio universale ma che verrebbero gestiti in accordi individuali con il cliente e quindi uscirebbero in re ipsa dal concetto di servizio universale e quindi richiederebbero l'applicazione IVA poste italiane secondo l'antitrust non applica l'IVA e quindi ci sarebbe un profilo anticoncorrenziale nel 2012 il Tarlazio annulla la condanna dell'antitrust relativamente al procedimento relativamente a TNT post e a gennaio 2013 quindi a distanza di 7-8 anni finalmente il Tarlazio esce con la sentenza relativamente alla posta ibrida che nel frattempo la normativa relativamente alla posta ibrida è stata abrogata quindi del tutto inutile esce con la sentenza relativamente all'abuso di posti italiani sulla posta ibrida dove sostanzialmente conferma la condanna di poste riducendo però la sanzione in quanto secondo il Tar molti delle attività che svolgeva post italiane le doveva fare perché la normativa la obbligava a comportarsi in quel modo quindi come potete vedere quello che a livello di Unione Europea dovrebbe essere un processo lineare semplice che in 15 anni avrebbe portato anche meno a completa libertazione dei mercati a livello italiano è diventato una vera e propria caccia al tesoro una corsa a ostacoli abbiamo tre attuazioni direttive una rimopolizzazione cinque istruttorie due chiuse con accettazione degli impegni due chiuse con condanna entrambe appellate al Tar una che teoricamente nei prossimi mesi dovrebbe vedere una chiusura di istruttore da parte dell'antitrust e ancora ad oggi il Consiglio di Stato nessuno di questo ha avuto modo di dire la sua quindi come potete immaginare una posizione di newcomer quello che sono stati le situazioni che hanno impedito di operare non sono solo le condotte anticoncorrenziali da parte dell'operatore postale dominante ma sono una vera e propria difformità di quella che è la normativa italiana sulla base della normativa comunitaria un'assenza di indipendenza del regolatore per fortuna questo stacco è stato superato di recente con l'affidamento alla G.com delle competenze in materia delle asimmetrie anticoncorrenziali vi ho fatto l'esempio dell'IVA ma ve ne sono anche altre e soprattutto una mancanza di tempestività velocità efficacia e certezza di quelle che sono le regole antitrust ad oggi la nostra esperienza ci insegna che in Italia negli ultimi 15 anni abbiamo vissuto una situazione dove noi quotidianamente decidevamo come gestire il mercato e come muoversi sul mercato come ebbe a ricordare il professor Tesau un po' di anni fa le privatizzazioni anche se associate alle stesse liberalizzazioni come nel caso italiano non lo conducono necessariamente alla liberalizzazione ma possono portare dei monopoli privati che è quello che è successo in Italia cioè negli ultimi 15 anni è venuto meno il monopolio governativo e in Italia è stato un monopolio privato che era quello di poste italiane quindi alla luce di tutto quello che vi ho fatto vedere l'applicazione della normatività antitrust se è importante in un mercato liberalizzato potete immaginare che diventa veramente vitale in un mercato in via di liberalizzazione in quanto è un mercato chiaramente non pronto con una normativa non idonea e del tutto molto molto fragile per cui i criteri che vi dicevo prima di tempestività velocità efficace e certezza in un mercato in via di liberalizzazione sono veramente fondamentali in questa tabella ho provato a schematizzare quelli che sono per istruttore per istruttore le tempistiche relative alle varie istruttore antitrust altare al Consiglio di Stato quindi se vi è stata come potete vedere una certa tempestività e velocità dal punto di vista dell'antitrust in quanto in uno o due anni l'istruttore partiva e raggiungeva comunque una sua chiusura nel momento in cui si passa dalle competenze antitrust alle competenze del giudice vi è sicuramente una seconda velocità una velocità che comunque ha come prima effetto un effetto di freno sullo sviluppo del mercato in questo caso del mercato italiano perché non permette all'operatore che vuole entrare su un mercato in via di liberalizzazione non permette di fare innovazione non permette di fare nulla di prospettico perché ad oggi a distanza di tanti anni noi non abbiamo ancora la parola fine su cinque istruttori di cui la prima avviata con la segnalazione dell'antitrust del 2003 e questo purtroppo non ha solo un risultato di freno del processo di liberalizzazione ma un risultato di freno di quello che gli investimenti nei paesi in Italia è un vero e proprio pericolo di distruzione del mercato perché vi ho fatto l'esempio prima della posta ibrida che a distanza di otto anni è uscita la sentenza del TAR posta ibrida che ad oggi non è più un prodotto sostanzialmente vendibile nel paese Italia come promesso vado verso le conclusioni vi posso dire che la nostra posizione la nostra esperienza in Italia come newcomer ci ha insegnato che il suo deterrente della sanzione non è più sufficiente probabilmente non è mai stato io personalmente ritengo che gli operatori dominanti considerano la sanzione come un rischio percorribile come il costo che l'operatore a volte decide di percorrere per mettere fuori gioco gli operatori in concorrenza sul mercato è un rischio che corre sa che costa mandar via teneti posto dal mercato 5, 10, 15, 20 milioni di euro e decide di percorrerlo quindi secondo noi deve essere fortemente implementata tutto ciò che sia la prevenzione quindi con una forte collaborazione tra la Gcom la GCM e i tribunali ordinari ma anche soprattutto in termini di terrenza per incrementare quello che è il rispetto vero e proprio della normativa antitrust da questo punto di vista ritengo che possono essere utili se non essenziali introdurre come nei paesi anglosassoni le sanzioni penali e le sanzioni individuali personalmente ritengo veramente molto utile quello che può essere l'interdizione dall'incarico di amministratore in quanto ritengo sempre personalmente che un amministratore di fronte a un rischio che non è un solo rischio economico dell'azienda e quindi una sanzione percorribile ma anche di fronte a sanzioni penali sanzioni amministrative nei suoi confronti probabilmente avrebbe un atteggiamento e una sua cultura personale nei confronti della normativa antitrust ben maggiore di quella che abbiamo visto negli ultimi 15 anni in Italia grazie ringraziamo l'avvocato Raffaini per questa testimonianza tempi duri per i new cameras in Italia e lo ringraziamo anche perché ha parlato meno del tempo assegnato il che mi dà la possibilità di accettare qualche domanda qualche intervento e sopra il primo prenotato la dottoressa venga o vuoi parlare da lì va bene grazie professore volevo intervenire per tre minuti con un commento una sorta di nota critica all'ordinanza il 16 gennaio 2013 quindi in relazione alla sua introduzione e all'intervento del professor Prosperetti provo ad elencare i principi di diritto che afferma l'ordinanza e a criticarli a uno a uno un minuto all'uno primo principio la decisione dell'autorità garante è una prova privilegiata e fin qui niente da dire richiama il precedente e fin qui in modo sapiente secondo principio che ne fa discendere crea una presunzione ancora che a iuristantum di esistenza dell'illecito e non soltanto ma una presunzione di esistenza del nesso causale e esistenza del danno non arriva a dire del suo ammontare e qui la critica a mio parere nella teoria generale della prova la categoria prova privilegiata di creazione giurisprudenziale e fin lì va benissimo va ad impattare non sull'onere della prova sulla locazione dell'onere della prova bensì sullo standard della prova da valutarsi al giudice cioè la parte fornisce una prova documentale che dà al giudice un standard di evidenza molto alto cosiddetto strong piece of evidence secondo principio e quindi non si ribalta con una presunzione l'onere della prova di un fatto costitutivo come l'esistenza dell'illecito sul convenuto l'onere di provare l'illecito ancora che con questo documento continua a gravare sull'attore secondo principio affermato ne avevo già fatto cenno e questa presunzione deve coprire anche che il nesso di causalità e del danno tant'è che il convenuto ha l'onere di dare la prova contraria dell'inesistenza dell'annesso di causalità e del danno e sfido chiunque a reperire qualcosa di più di affermazioni incidentali circa il nesso di causalità e l'esistenza e l'ammontare del danno se non per valutare gli effetti anticompetitivi in una decisione dell'autorità avendo appunto l'autorità competenza ad accertare illeciti e a combinare sanzioni non ad accertare nessi di causalità e esistenza e il danno terzo principio in ogni caso nel difendersi il convenuto già onerato di questa prova perché c'è la presunzione ancora che il juristantum deve portare in ogni caso dei fatti precisi e nuovi niente a che ridire sulla precisione dei fatti c'è il precedente e addirittura in parola sezione unita del 2002 è un principio che ho affermato anche io in ordinanza in una sentenza abbastanza recente a proposito della ricostruzione del mercato rilevante da parte dell'autorità la parte che vuole contestare quella ricostruzione del mercato rilevante rispetto ai fatti tecnici che stanno nella decisione dell'autorità mi deve portare difese su fatti tecnici altrettanto precisi ho molto da ridire invece con il professor per Speretti sul fatto che questi fatti debbano sono d'accordo con lui possano mai essere nuove e fresche proprio perché se riconduciamo la prova privilegiata allo standard approbatorio noi anche nel caso in cui la parte sia sfortunata e abbia avuto il cattivo avvocato e il cattivo economista in ogni caso impediamo al giudice buono o cattivo che sia di rivalutare gli stessi fatti che la parte ha già portato davanti all'autorità la conclusione è che se prendiamo l'insieme di questi tre principi in verità la prova privilegiata viene trasformata in una sorta di prova legale quasi di prova legale quindi in quello che i teorici generali della prova chiamano limite controepistemico che diventa un ostacolo al accertamento della verità dei fatti grazie magnifico lei merita un applauso se l'avessi sentito prima avrei utilizzato le sue parole ecco la dottoressa che è arrivata Tavassi sì sì aspetta aspetta che cerchiamo il microfono penso di intervenire sul punto quale giudice estensore della prima sentenza quella del 2009 la 3640 inazpaghe nella quale con i colleghi della Corte di Cassazione allora io ero alla prima sezione civile della Corte di Cassazione abbiamo appunto tratto argomenti dal devo dire mia personale esperienza nell'ambito delle consultazioni presso la Commissione europea per arrivare a definire il provvedimento dell'autorità garante quale base per il private enforcement nelle azioni follow on ma non spingendoci oltre l'idea che potesse costituire una prova privilegiata in relazione all'illecito ed in relazione a quegli accertamenti che già erano stati compiuti nel corso dell'istruttoria davanti all'autorità garante avevamo messo un limite preciso per quanto riguardava invece gli effetti della decisione dell'autorità garante sia sul nesso di causalità e sia sull'esistenza e tanto più la quantificazione del danno tutti i temi dei quali l'autorità garante non si occupa abitualmente se non come ha detto la collega brillantemente solamente in via incidentale e più che altro a livello di obiter dictum per cui non possono essere sottratti alla valutazione del giudice ordinario e soprattutto non possono essere sottratti alle regole ordinarie che regolano la prova nell'ambito del processo civile questo vale a maggior ragione adesso che la Cassazione con questa ordinanza ha dato indicazioni contrarie per il fatto che seppure quella attività svolta dall'autorità garante possa fondare presunzioni che sottengono anche al nesso di causalità e all'esistenza del danno tuttavia la reazione avverso alla presunzione non può essere che quella di fornire una prova a contrario se vogliamo spingerci io condivido le perplessità della collega se vogliamo spingerci però a condividere anche questa impostazione sulla presunzione sul nesso di causalità e sull'esistenza del danno dobbiamo però pensare che la reazione che il convenuto può essere autorizzato a portare nel processo civile non possa subire nessun tipo di limite e che il diritto di difesa si debba svolgere in base alla libertà assoluta e in base alle regole che sono codificate nel nostro sistema non potendosi pensare a vincoli quali quello della prova nuova che mi vede assolutamente contrarie che credo anche nel sviluppo della giurisprudenza per fortuna l'ordinanza della Cassazione non vincola da noi i giudici di merito avrà sicuramente delle valutazioni diverse secondo me già le ho avute perché anche il caso che i Comtelecom non è della mia sezione è della prima sezione civile quindi non è della sezione dell'impresa milanese ma è un caso della prima sezione civile perché era stato radicato prima che la materia antitrust fosse tutta portata alla mia sezione alla sezione dell'impresa ha comunque seguito la strada tradizionale di dover appunto verificare in maniera più o meno rigida più o meno severa il nesso di causalità e il danno davanti al giudice ordinario grazie mi si è consentito solo una piccola appendice non dobbiamo dimenticare siccome sostanzialmente finora abbiamo parlato delle cause di risarcimento del danno da quell'accertamento dell'autorità che derivava dallo scambio di informazioni e perciò va anche collocato le sentenze citate e l'ordinanza di cui abbiamo parlato va inquadrata in quel caso e in quel caso l'autorità garante la concrerenza del mercato non aveva accertato il danno aveva detto c'è la probabilità c'è il pericolo del danno e questo è stato chiarito in modo senza alcun dubbio da un punto della sentenza del Consiglio di Stato il quale il Consiglio di Stato nel confermare parzialmente la decisione aveva detto la decisione è stata basata sul fatto del pericolo di danno pericolosità ci sono due o tre punti della decisione e non invece dell'accertamento degli effetti dello scambio di informazioni perciò c'è una presunzione ma non è una presunzione ecco teniamoci bene non è una non solo una presunzione legale oserei nutrire qualche dubbio che sia anche una presunzione rafforzata chiamiamola così davanti ad un'azione di riservamento del danno ci sono altri interventi oppure andiamo è pronto ecco il dottor Chieppa perbacco se ci sono degli altri alzate la mano così vedo a chi dà la parola solo una parola su questo prego il caso assicurazione lo vi dirò al lato come estensore della sentenza ora sono all'autorità insomma dipende molto cosa fa l'autorità cioè l'autorità può limitarsi in alcuni casi all'accertamento del solo oggetto anticompetitivo anticonferenziale ora è corso un dibattito anche all'interno dell'ICN delle reti di autorità europee internazionali per avere un cosiddetto effect based approach cioè un approccio più economico anche noi in autorità abbiamo istituito la figura del chief economist questo cosa significa che in autorità si stiamo ponendo il problema se in alcuni casi in cui ci potremmo limitare ad accertare l'oggetto se spingersi anche ad accertare gli effetti magari con una ricaduta ai fini dell'aumento della sanzione quindi se poi cadono gli effetti cade l'aggravante l'aumento della sanzione ed è evidente in questo caso se l'autorità si dovesse spingere quel valore di prova privilegiata si estenderebbe anche agli effetti ma io penso mai alla quantificazione questa è la istituzione ci sono alcuni casi in cui l'intese per effetto oppure negli abusi in cui necessariamente l'autorità si spinge fino a provare gli effetti allora bisogna vedere cosa ha fatto evidente nel caso RC quello è il caso tipico in cui la sanzione è venuta solo per l'oggetto anticoncorrenziale e nulla era stato detto sugli effetti grazie per la precedenza altri interventi allora ringrazio tutti i relatori tutti a uno a uno anche la relatrice ringrazio la vostra pazienza andiamo a mangiare qualche cosa che ce lo siamo meritati grazie